Buongiorno ragazzi, ben ritrovati, oggi siamo in una situazione un po' strana, come vedete alle mie spalle non c'è la solita parete del bagno ma c'è una parete di cartongesso perché sono al lavoro, per fortuna attualmente almeno finora è un turno tranquillo e ho pensato di fare un nuovo video e questa volta per rispondere alla richiesta di un amico lascio da parte rasoi, pennelli, saponi, dopo barba e torniamo a parlare di eleganza maschile in realtà vorrei parlarvi di eleganza maschile parlandovi dello smoking, quindi dell'abito in assoluto più elegante dell'eleganza maschile e mi è parso divertente farlo in questo contesto proprio perché per lavoro io mi devo vestire in questo contesto in modo tutt'altro che elegante allora parliamo dello smoking, che cos'è lo smoking? innanzitutto scusate una piccola premessa, è possibile che voi sentiate dei rumori molesti durante la registrazione di questo video purtroppo sono i rumori degli uffici intorno al mio e quindi non posso fare niente per impedirlo dicevamo che cos'è lo smoking? è un abito completo da uomo che è indicato per le occasioni serali quindi da galateo si deve indossare per tutte le occasioni formali dopo le ore 18 è oggi un abito utilizzato abbastanza di rado se non in occasioni particolari la più frequente, quella per cui la maggior parte delle persone ancora oggi indossa lo smoking è il cenone di fine anno, il cenone di San Silvestro a molti piace e molti ritengono opportuno accogliere il nuovo anno vestiti con lo smoking quindi con l'abito più elegante possibile lo si indossa anche, scusate, in tutte le occasioni per esempio formali di ceni di gala, di raccolta fondi lo si porta a teatro, lo si porta per l'esattezza nelle seconde teatrali purché ci si siede in platea o nei palchi perché per la prima teatrale in realtà sarebbe indicato il frac tuttavia lo smoking viene accettato anche alle prime teatrali se uno non possiede naturalmente il frac chi siede nei loggioni che va dalla prima o alle seconde è esentato dall'indossare lo smoking a lui si richiede, a chi siede in loggione è richiesto esclusivamente un abito scuro con una cravatta elegante lo si indossa quando si va nei casino per esempio, soprattutto di sera e quando si siede a tavoli dove si gioca forte o con giocatori di un certo livello e poi lo si vede per esempio, sempre per stare nell'ambito così dell'artistico, lo troviamo per esempio nelle orchestre molti musicisti delle grandi orchestre indossano lo smoking così come il direttore d'orchestra laddove non abbia il frac indossa lo smoking anche se oggi ormai siamo abituati a vedere dei direttori d'orchestra in maglione e jeans però insomma va bene così allora lo smoking è un abito che prende il nome da smoking jacket cioè la giacca da fumo perché nasce come un abito elegante da mettere sopra l'abito da sera per proteggere il vestito sottostante dall'odore del tabacco gli uomini del 1800 dopo le belle cene importanti eleganti si radunavano magari nello studio del loro ospite e sorseggiando del brandy o fumando un sigaro, la pipa o una sigaretta discutevano dei loro affari per proteggere i loro abiti sottostanti indossavano la giacca da fumo fino al 1865, fino al 1880 in realtà l'unico abito codificato come abito elegante per gli uomini era il frac mentre diciamo dall'in poi il frac perde un po' di poesia, perde un po' di smalto e viene sorpassato dallo smoking sicuramente oggi molto più diffuso lo smoking nasce un po' prima di questa data, 1880, nasce nel 1865 in una sartoria di Londra la sartoria di Henry Poole & Co. dove Mr. Poole decide di disegnare una giacca da fumo elegante per il principe di Galles, futuro re Edoardo VII e cosa fa? Prende la giacca più elegante che c'è, cioè la giacca di un frac e gli taglia le code, le taglia le code di lì parte poi l'elaborazione del resto dell'abito lo smoking ha immediatamente un grandissimo successo e sbarca oltre l'oceano nel 1886 grazie a un dandy americano Griswold Lorillard, figlio di Pierre Lorillard IV un manufattore di tabacco e allevatore di cavalli americano Griswold fonda dei night club, che lui chiamerà Tuxedo Club dove si raduna il jet set americano e quindi dove lo smoking si diffonde talmente in modo, come dire, rapido e va immediatamente a trovare il suo posto nella tradizione dell'eleganza americana che, diciamo, nella parlata gergale americana lo smoking non si chiama smoking spiegandolo Tux oggi in Inghilterra lo smoking si chiama dinner jacket proprio perché ormai lo smoking ha, come dire, perso la connotazione di un abito da mettere sopra un altro abito ma diventa un abito a sé stante estremamente elegante in Italia lo chiamiamo ancora smoking anche se dovremmo chiamarlo giacchetta da sera termine che è stato coniato durante il ventennio fascista non è un abito strettamente codificato tuttavia dispone, o meglio possiede, tutta una serie di dettagli e di componenti che devono avere determinati requisiti per poter comporre nel loro insieme uno smoking elegante e fra questi sicuramente il primo componente da analizzare è la giacca la giacca dello smoking è una giacca monopetto si può indossare al di sopra anche di un panciotto che poi vedremo ha dei baberi fatti in saten o in seta il colore della giacca è il nero è una giacca senza spacchi con delle tasche lineari con patelette, non con linguette che sporgono non cucite sopra la giacca quindi nessun tipo di tasca sportiva ha quattro bottoni sulle maniche può essere anche una giacca a doppio petto la giacca dello smoking a petto singolo e la giacca dello smoking a doppio petto hanno questi baberi, dicevamo, di seta neri e hanno dei bottoni che sono anch'essi rivestiti di seta neri non ci sono in vista bottoni di plastica, mai la forma dei baberi è codificata in tre forme principali la forma tradizionale, la forma cosiddetta alancia cioè con le punte che tirano verso le spalle e questa è la forma considerata più idonea agli uomini dai 40 anni in su e poi la cosiddetta forma a scialle cioè un nastro di seta che scende lungo il profilo della giacca e che è sicuramente una forma di bavero più giovanile, meno impegnativa e di certo la più simile all'originale d'accordo? perché ricordiamoci che lo smoking nasce come una giacca da fumo quindi assomigliava un po' a una vestaglia di fatto ha quindi tutte le caratteristiche della giacca del frac meno le code che invece le sono state tagliate quindi, baberi di seta neri, bottoni rivestiti di seta neri la giacca si porta quando è a doppio petto sempre abbottonata la giacca a petto singolo invece si porta sempre abbottonata tranne in due occasioni quando ci si siede o quando vogliamo per vedere l'ora estrarre dal panciotto un orologio da taschino vi dicevo, il colore è il nero esistono due eccezioni riconosciute dal galateo diciamo così, la giacca bianca e in questo caso avrà tutte le caratteristiche i baberi di satenno, di seta i bottoni rivestiti, anch'essi bianchi che è indicato per le occasioni di gala all'aperto oppure il colore blue midnight un blu cioè molto cupo, molto scuro che viene introdotto negli anni 35-40 dal duca di Windsor, futuro re Edoardo VIII che era considerato l'icona dell'eleganza maschile di quegli anni e che quindi si è permesso di dare il suo contributo a questo abito così ormai molto diffuso per l'epoca questo per quanto riguarda la giacca quindi tre colori nero, bianco e eventualmente blue midnight noi siamo abituati a vedere ogni tanto anche in televisione degli smoking dai colori sgargianti, rossi, verdi, colori fluo sono considerati estremamente pacchiani e sono riservati ai costumi teatrali o alla gente di spettacolo non sono codificabili altri colori se non questi tre il bianco per la giacca, il nero per la giacca il blue midnight per la giacca, il pantalone è sempre invece nero altra caratteristica, come dire, importante dello smoking è il papillon un farfallino di seta che deve essere sempre nero il farfallino bianco non si indossa con lo smoking perché è riservato al frac deve essere naturalmente un farfallino di quelli da annodare il farfallino preconfezionato è accettato in situazioni di emergenza per esempio il farfallino da annodare in tintoria è sporco, è rovinato, si è rotto o nel caso uno non abbia naturalmente un farfallino da annodare è nero ed è proprio il farfallino nero dello smoking che dà origine all'espressione black tie che sarebbe in realtà black bow tie bow tie è il farfallino black naturalmente il nero in Italia lo traduciamo come cravatta nera che è il dress code che viene richiesto per le occasioni di gala quando l'organizzatore desidera che tutti gli invitati a una certa cena, a una certa manifestazione indossino l'abito da sera indossino lo smoking non sono considerati eleganti sebbene ne abbiamo visti di tutti i colori i papillon dello stesso colore per esempio della fascia che si chiama fushacca che si porta sotto la giacca a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90 c'era la moda di indossare un papillon bordeaux con una fushacca bordeaux sicuramente più giovanile sicuramente meno impegnativo ma sicuramente molto meno elegante rispetto al papillon nero l'altro dettaglio importante da vedere nello smoking è la camicia sarà una camicia bianca che deve avere però delle caratteristiche innanzitutto un polsino doppio per poter indossare dei gemelli che devono essere dei gemelli identici quindi con le due facce uguali non quindi con la linguetta la piega quelli a coda di baleno o a balestra ma proprio dei gemelli veri possibilmente con la catena possibilmente di metallo prezioso oro, argento, platino o gemelli gioiello veri e propri quindi gemelli in cui vengono incastonate delle pietre preziose dicevamo deve essere bianca e il petto della camicia può essere o liscio o plissettato di solito si preferisce quello plissettato cioè delle piccole pieghe molto sottili verticali che danno un po' di movimento allo sparato bianco della camicia e che aiutano a rendere meno abbagliante la camicia bianca al di sotto del papillon i bottoni di questa camicia devono essere di madreperla o dei bottoni gioiello se devono essere in vista se invece i bottoni non sono né di madreperla né dei bottoni gioiello devono essere nascosti e le camicie da smoking hanno proprio una piccola bandeletta di tessuto bianco anch'esso naturalmente che ricopre la fila di bottoni in modo che non siano visibili il colletto della camicia è un colletto ribattuto verso il basso in Italia soprattutto è apprezzato il colletto da cerimonia quindi il colletto piccolino con le puntine ribattute triangolari ribattute in avanti comunque sempre le alette del colletto devono finire a punta non sono ammesse per lo smoking camicie con colletti rigidi a punta tonda né tantomeno le camicie con il colletto bottom down altro grande dettaglio importante sono il panciotto e la fushak vi dicevo sotto la giacca a petto singolo è possibile indossare un panciotto non è obbligatorio però se si deve indossare un panciotto si deve indossare un panciotto da smoking è un panciotto disegnato apposta per lo smoking perché non venga visto quando si indossa la giacca bottonata è un panciotto estremamente svasato per cui non maschera lo sparato bianco ed è chiuso soltanto da tre bottoni sulla parte inferiore dell'addome quindi quando uno tiene la giacca bottonata il panciotto non si vede ed è fatto così per nascondere per esempio le bretelle che si portano sotto la giacca invece questo panciotto di solito ha un taschino in cui si ripone un orologio da taschino e quindi questa è una delle due situazioni in cui è ammesso lo sbottonare la giacca a petto singolo per poter vedere l'ora con l'orologio da taschino il panciotto non si indossa sotto la giacca a doppio petto che come vi dicevo non deve mai essere sbottonata l'altro elemento di cui vi dicevo è la fusciacca o fascia o cammerband per usare il termine anglosassone è una fascia anch'essa di raso o di seta dello stesso colore del papione quindi nera vi dicevo c'è stata un'epoca in cui si usavano papione e fusciacca di colori differenti ma sempre abbinati tuttavia non sono riconosciuti come degli smoking particolarmente raffinati la fusciacca e il papillon devono essere sempre neri è un nastro sostanzialmente una cintura di seta o di raso con delle pieghe quindi ripiegata più volte su se stessa viene indossata nodandola sul retro con le pieghe rivolte verso l'alto spesso all'interno di queste pieghe si cede a un taschino in cui i gentlemen di una volta nascondevano degli spiccioli per pagare lo strellone del giornale per pagare il cocchiere e questa fascia è considerata particolarmente elegante ed obbligatoria sullo smoking perché ricorda le uniformi degli ufficiali delle truppe anglo-indiane della prima guerra mondiale e quindi viene considerato come un qualcosa di assolutamente irrinunciabile per poter avere uno smoking ad hoc i pantaloni anche i pantaloni sono molto particolari sono dei pantaloni lunghi, neri, senza risvolto finale e sulla loro cucitura laterale per tutta la lunghezza della gamba è fissato un gallone, cioè una striscia di seta nera sono quindi in tutto e per tutto identici ai pantaloni del frac meno per il discorso del gallone che appunto ne fa la differenza perché i pantaloni del frac hanno due galloni di seta nera cuciti lungo la gamba mentre lo smoking ne ha uno soltanto ufficialmente i pantaloni dello smoking non hanno passanti perché anche se può sembrare poco elegante lo smoking non si indossa con la cintura ma si indossa con le bretelle ed è per questo anche che il panciotto che si porta sotto la giacca petto singolo dello smoking è molto sottile in alto e svasato subito sotto i pettorali proprio per nascondere le bretelle alla vista che sono appunto poco eleganti in Italia e in alcuni altri paesi europei come la Spagna il pantalone dello smoking permette la presenza dei passanti purché la cintura che si mette su questi passanti sia estremamente nera estremamente sottile con una fibbia poco impegnativa, molto piatta perché comunque la cintura andrà coperta dalla fusciacca e la fusciacca non può avere difetti di posizionamento per colpa della cintura sottostante vi dicevo prima che lo smoking è un abito che non ha una stretta codifica è vero, però persino le calze sono codificate in realtà per lo smoking le calze dello smoking sono calze nere, lunghe quindi dei gambaletti che arrivano sotto il ginocchio lisce, senza nessun tipo di ricamo, senza nessun tipo di disegno e di seta tant'è vero che le calze di seta addirittura non sono previste con l'elastico perché si sciuperebbero e infatti lo smoking prevede che l'uomo indossi la jarrettiera per tenere sulle calze poiché naturalmente le calze di seta non sono particolarmente calde laddove lo smoking venga indossato in occasioni invernali e quindi in occasioni in cui fa particolarmente freddo è permesso l'utilizzo di tessuti più pesanti per le calze purché sempre le calze siano nere, lisce, senza nessun tipo di disegno particolare le scarpe le scarpe originali dello smoking sono sempre comunque scarpe nere lucidate a specchio in realtà le vere scarpe dello smoking sono dette pumps e sono in realtà una specie di pantofola da coro chiusa sul tallone naturalmente quindi sono scarpe piatte estremamente scollate non con una stringa al posto della stringa hanno un fiocchetto, una nappa di seta nera proprio perché erano scarpe da indossare in un'occasione di comodità ricordiamoci lo smoking nasce per un'occasione di relax dopo una cena elegante non si veste per coprire l'abito da sera per fumarsi un bel sigaro e assaggiare un buon whisky, uno scotch, un brandy degustare un cognac e quindi insomma la scarpa era pensata in questo modo e si chiamavano pumps oggi le pumps non si usano o non si usano praticamente più e il dress code dello smoking prevede che la scarpa sia sempre nera sempre lucida da specchio ma può essere stringata purché del modello Oxford altro dettaglio il fazzoletto da taschino è il fiore il fiore all'occhiello allora qui ci sono diverse scuole di pensiero il fiore all'occhiello molto utilizzato nei paesi anglosassoni è un fiore di solito rosso di solito si usa il garofano o comunque un qualunque altro fiore di colore rosso gravissimo errore i fiori bianchi non si mettono all'occhiello dello smoking i fiori bianchi perché i fiori bianchi sono riservati per il frac il fazzoletto da taschino non è apprezzato non è molto utilizzato lo si può indossare purché sia bianco e il fazzoletto da taschino bianco è apprezzato soprattutto negli ambienti eleganti italiani e visto che l'Italia negli ultimi decenni fa scuola per la moda in tutto il mondo direi che si può indossare il fazzoletto da taschino bianco senza urtare la sensibilità di nessuno quello che invece non si fa praticamente mai è di attaccare ai baveri della giacca dello smoking dei distintivi o delle spille l'unica eccezione che viene riconosciuta a questa regola è quando i soci di un club si riuniscono in una cena particolarmente di gala una raccolta di fondi e via dicendo a cui vengono invitati membri esterni al loro club sempre con cravatta nera quindi sempre in smoking allora i soci del club per differenziarsi dai loro ospiti possono attaccare sul bavero sinistro della loro giacca il distintivo del loro club o un segno di riconoscimento l'orologio allora lo smoking ammette l'orologio da polso pur che sia un orologio piatto, sottile, poco vistoso, poco impegnativo perché non deve nascondere la preziosità dei gemelli che invece devono essere visibili discretamente visibili ma visibili se si indossa un orologio da taschino perché si porta il panciotto e soltanto se si porta il panciotto deve essere un orologio della cassa comunque sottile che non faccia difetti in modo tale che la giacca quando viene abbottonata non abbia nessun tipo di difetto nel suo modo di cadere addosso all'uomo che si sta vestendo con lo smoking il cappello lo smoking prevede sostanzialmente un tipo di cappello il cappello fedora per intenderci il cappello di Indiana Jones anche se meno stropicciato naturalmente naturalmente di colore scuro di solito il grigio con la fascia di raso nera alcuni indossano per sfizio un fedora con una fascia di raso invece dai colori più sgargianti è uno sfizio e fa perdere un po' di eleganza e di ufficialità allo smoking indossato non è apprezzato per lo smoking il cappello rigido soprattutto il tipo di cappello a cilindro che è invece riservato al frac se proprio si vuole indossare un cappello rigido è da utilizzare la bombetta infine il cappotto o soprabito la sciarpa ai guanti quando si indossa lo smoking durante le occasioni invernali il soprabito è apprezzato di solito è un cappotto modello Chesterfield quindi con i baveri, con la bottonatura davanti senza cintura di solito di colore grigio ferro, grigio intracite o anche nero la sciarpa deve essere una sciarpa di seta bianca questa volta o di lana pettinata bianca è molto indicata quando si va a partecipare per esempio a eventi teatrali a concerti, a manifestazioni importanti anche magari all'aperto purché dicevamo sempre in stagione invernale per quanto riguarda i guanti i guanti sono di pelle di vitello sostanzialmente sempre naturalmente neri l'ultima parentesi lo smoking nascendo in Inghilterra nasce in un paese in cui il clima non è mite come il nostro i tessuti per confezionare uno smoking sono sempre generalmente abbastanza pesanti si va dalla vigogna, all'alpaca altri tessuti possono anche essere del twill che sono tessuti quindi non c'è un tessuto vero, ufficiale per lo smoking ma sono sempre dei tessuti abbastanza pesanti questo anche perché il tessuto pesante permette all'abito di cascare bene senza difetti particolari bene ragazzi spero che questa breve escursione sul mondo dell'eleganza maschile vi sia piaciuta spero di avervi dato delle informazioni utili sullo smoking spero magari di aver fatto venire a qualcuno l'idea e la voglia di reindossare ancora una volta lo smoking magari se ce l'avete in un armadio riposto dopo tanto tempo spiate l'occasione di poterlo mettere magari a qualche cena di gala sotto Natale o sotto l'ultimo dell'anno che fa sempre bene e si è sempre elegante ragazzi vi auguro una buona giornata vi auguro oggi domenica per cui anche una buona mangiata un buon fine di fine settimana ci sentiamo presto per un'altra sbarbata alla prossima, ciao!